Il Parco Santa Lucia Il Parco è composto da questa unità abitativa composta da sei appartamenti e ben nove billette unifamiliari. Tante sono state le richieste da parte dei proprietari rivolte alle istituzioni affinché si scongiurasse l'abbattimento, ma purtroppo il miracolo non è arrivato. Al momento è tutto, seguiranno ulteriori aggiornamenti. Il Parco Santa Lucia